L'importanza, insomma, la tecnologia e quanto, insomma, di rivoluzionario oggi possiamo fare per la vera prevenzione. Va bene, grazie. Allora, Giorgio ha parlato all'inizio del suo discorso della risonanza. Questo è un concetto veramente fisico, non è certo un concetto che noi medici conosciamo, ma per capire bene la risonanza partirò da una risonanza che tutti voi conoscete, la risonanza di tipo meccanico. E allora qui vi faccio vedere due strumentini che tutti voi conoscete, non sono altro che due forchette sostanzialmente. Eccole qua, non so se le vedete bene, ma ve le faccio vedere. Guardano proprio alla forma della forchetta. Sono due, eccole qua. Vedete che sono uguali, fatti dello stesso materiale, se le confronto sono proprio identiche. Guai se non lo fossero, perché sennò il fenomeno della risonanza non ci sarebbe. Perché è importante la risonanza partendo dalla risonanza meccanica? Perché vedrete che il corpo umano, in fin dei conti, noi continuiamo a dire che è un insieme di organi, cellule, compagnia bella, bene, benissimo. Tutto ciò che avviene sembra essere quasi di tipo biochimico, benissimo. Non mettiamo in dubbio nulla, ma noi cominciamo a capire che se non ci fosse quello che io, non so cosa è successo, non mi vedo più. Spero che voi mi vediate. Mi vedete? È iniziata una condivisione di uno schermo. Dimmi, Ria, chi è che hanno avviato per errore, penso. Allora, che dobbiamo fare? Questa signora dovrebbe chiudere la condivisione. Signora, la prego, chiuda la condivisione. Eccoci. È tornato il professore. Tornati, tornati. Meraviglia. Allora, stavo dicendo che effettivamente tutta la parte biochimica è sacrosanta per noi medici, per carità, e chi la mette in dubbio. Però non è solo quella cosa lì. Non c'è soltanto l'aspetto biochimico, ma c'è il rovescio della medaglia, come dico sempre, che è l'aspetto biofisico. Adesso io ve lo dimostro. Anche perché, giustamente, qualcuno potrebbe essere incredulo. Allora, guardate un po', ho preso un martelletto e adesso vado a eccitare il primo diapason. Guardate cosa succede, spero che si senta molto bene. Allora, io blocco il diapason che ho eccitato. Perché voi sentite il suono? E perché sta oscillando l'altro. Ma come sta oscillando l'altro? Ma se io ho battuto questo, come può essere che oscilla l'altro? Per il fenomeno della risonanza. E allora cos'è la risonanza? È l'eccitazione che io faccio dall'esterno su uno e, guarda caso, risuona anche l'altro. Ma avviene qualcosa del genere anche nel corpo umano? Boh, non lo so. Vediamo, vediamo. Andiamo avanti al discorso. Allora metto via i diapason, prendo questa cosa che io molto spesso utilizzo e smonto. Ho fatto addirittura una lezione televisiva vera in cui ho smontato la radio, ma l'ho fatta anche qua in una lezione e mi sono divertito a far vedere che cosa c'è dentro questa radio. Ma io vario che cosa? E vario un qualche cosa che qui dentro c'è e questa mi cambia quello che noi chiamiamo la frequenza. Basta, 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 è inutile. Ma cosa c'è qui dentro? Perché là io eccitavo, ovviamente. Qui c'è un'antenna che voi tutti conoscete, eccola qua. Dentro qui c'è un circuito che chiamerò oscillante, esattamente come il circuito oscillante meccanico, questo elettronico ovviamente, che è in grado di captare onde che voi avete, vi ho fatto sentire le onde, variando questo commutatorino. Ve l'ho fatto sentire. Prendevo un'onda, poi io cambiavo, ne prendevo un'altra, poi cambiavo, ne prendevo un'altra ancora e via, 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 via. E qui ci deve essere davvero uno stregone qui dentro. Perché? Perché è in grado di far risuonare su cose che io non vedo, non sento, non percepisco, ma che ci sono. E sono le onde elettromagnetiche a cui alludeva Terziane. Siamo circondati. Ma perché? E questo qua, se io vi prendo il mio telefonino, perché il mio telefonino squilla solo il mio e non tutti i vostri telefonini se uno chiama a me? Perché? E perché chiama il mio numero, quindi il mio numero è risuonante con il numero che mi sta chiamando. E voi non risuonate per niente. Non è che sentite le mie conversazioni telefoniche. Allora anche qui c'è dentro uno stregone. No, non è uno stregone. C'è un circuito risuonante esattamente come questo, identico, preciso. Ma che differenza c'è tra questo e questo? E che qui le frequenze sono diverse, si chiamano frequenze radio. E se mi prendo il televisore si chiamano frequenze televisive. Vuol dire che questa radio è in grado di acquisire una certa gamma di frequenza. Ah, interessante. Tenetelo in memoria questo, una certa gamma di frequenze. E il mio telefonino? Eh, certo. Se penso che il mio telefonino senta le frequenze radio, sono andato fuori di testa. A meno che, a meno che, dentro questo telefonino io non metta anche un circuito risonante sulla frequenza della radio. Questa è la condizione. Se io metto nel telefonino un circuito che oltre a quello del telefonino è un circuito in grado di recepire le frequenze radio, va bene, mi sentirò anche la radio attraverso il telefonino, oppure anche la televisione. Bene. Perché ho fatto tutto questa grande premessa? E per farvi vedere che, senza fare una lezione di fisica, guardate, ho preso un filo io, eh? Si vede, eh? È un filo d'ottone, guarda, lo deformo. È un filo. Questo filo è caratterizzato da un parametro fisico che si chiama resistenza, che c'è anche nel nostro organismo, poi ne parleremo tra poco, ma non è tanto la resistenza che a me interessa, ma è il fatto che io questo filo che ho in mano lo posso avvolgere e farlo diventare così. Guarda un po', guarda che bello, cosa hai fatto? Ecco, ho avvolto il filo. Ho preso un filo che era dritto e me lo sono avvolto, si dice a spirale. Ecco, il filo che aveva la resistenza, questa, è adesso avvolto così, si chiama, questo filo si chiama bobina o induttanza, che è la stessa cosa. Ma vedete che il valore della bobina potrebbe anche cambiare. Guarda, le spire stavolta sono sempre quattro, ne ho fatte quattro, perché mi rompeva le tasche farvele 200, ma vale nello stesso modo. Ma guardate un po', se io a questo punto allungassi questo filo e quindi le spirali diventano più lunghe, cambierà qualche parametro fisico. Ovvio, è certo che cambia, cambiano le condizioni. Ma perché andiamo avanti su questo tema che sembrerebbe non avere nulla a che vedere con la medicina? Come non c'è nulla a che vedere? Guarda un po', guardate, se avessi al posto di due mani quattro mani, cosa che non ho fortunatamente, perché sennò sarei un extraterrestre, e se avessi fatto due bobine esattamente così, guardate, parallele. Guarda che la tiro in lungo, ma non vi ricorda qualcosa che voi avete visto nelle immagini che Terziane vi ha fatto vedere? No, non vi sembra una specie di roba che voi conoscete, che è dentro la cellula, che è fondamentale per la cellula, che si chiama DNA. Occhio, mi hai fatto venire un'idea, certo. Questa bobina è esattamente equivalente a quello che voi avete illustrato come DNA. Certo, dovrei farvi una lezione di fisica, ma non sono diventato matto. No, non me ne frega niente più della fisica. Ma per farvi capire che tutto quello che stiamo tentando di spiegare, risonanza meccanica, risonanza elettronica, radio, risonanza elettronica del 5G, Orko Giuda, del 5G, questo. E poi ne parleremo del 6G, poi parleremo del 7G, perché attenzione che le cose andranno come sto dicendo io. E allora il mio DNA vuol dire che è un circuito oscillante pari a quello là? Sì signore, sì signore, è un circuito oscillante. Ma se è un circuito oscillante, cosa è in grado di fare secondo voi? Se non ricevere o trasmettere? Perché sappiate che qualunque circuito oscillante in grado di ricevere è in grado di trasmettere. E allora qui cominciamo a dire, ma tutte le reazioni biochimiche che sono sacrosante, che abbiamo visto, che è successo, è di nuovo qualche d'uno che è entrato. Ma spero che mi ascoltate lo stesso voi, no? Ecco, benissimo. Allora, che cosa succede? Che finalmente, grazie alla biofisica e a quello che vi sto raccontando, riusciamo a dimostrare che tutte le cose biochimiche che ci hanno insegnato nella facoltà di medicina avvengono. Ma avvengono perché? Perché l'incontro tra le molecole, cari miei, l'incontro tra le molecole non ci sarebbero. L'incontro è organizzato, non è casuale. Perché se le molecole non si incontrano al momento giusto, al tempo giusto per fare la reazione giusta e a questo punto domandate, ma chi è quello lì che è in grado di... Lui ha fatto vedere nell'ultima slide un'orchestra. Bravo! Bravo! Perché ci deve essere un direttore d'orchestra. E il direttore d'orchestra chi è, secondo voi? Che deve viaggiare alla velocità della luce. Perché guardate bene che se adesso io desidero grattarmi un'orecchia, ecco me la sto grattando. Se le reazioni non fossero giuste, io rischio che mi prude l'orecchia, ma io mi grato la testa. Avete capito bene il concetto? Quindi se devo immediatamente grattarmi l'orecchio, ci devono succedere una serie di reazioni che mi permettono davvero di grattarmi l'orecchio. E chi è il regista? Perché io non posso grattarmi l'orecchio se mi prude adesso tra un mese. Deve viaggiare alla velocità della luce perché mi prude adesso l'orecchio. E quindi qual è il regista? E' il campo elettromagnetico. Allora voi capite bene che quando noi abbiamo insistito e continuiamo a insistere, cercando di dare le basi, cercando di giustificare, di dimostrare, è uno sforzo quasi difficile perché è chiaro che se io sono tutto così, tutto così, come la facoltà di medicina mi costringe ad essere, e come posso capire quello che io tento da lungo tempo di dimostrare e mi sforzo di dimostrare. Ma però vedo le basi. Allora le basi sono queste. E allora a questo punto parliamo di qualche cosa di importante. Perché? 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 Guarda un po', guarda un po' cosa c'ho in mano. C'ho in mano una scheda. Poi io la utilizzo perché non ho qui, poi vado in studio e ce l'ho in studio. Ma guardate, esaminiamo un attimo questa roba qui che vi cerco di ingrandire sulla mia telecamerina. Ma questa qui, questa qui sembrerebbe, guarda, sembrerebbe una cosa così, eh? Sembrerebbe questa appiattita e messa su una scheda. Ma questo era un circuito oscillante. Ma vuoi dire allora che questo qui è un circuito oscillante? Sì, certo, è un circuito oscillante. E allora? E se è un circuito oscillante, sarà in grado di recepire alcune frequenze, meglio, mi spiego meglio, alcune gamme di frequenza. Gamme di frequenza. Ma perché gamme di frequenza? E perché se io mi divertissi, guardate, a prendere due elettrodi in mano e collegarvi con una specie di televisore che si chiama oscilloscopio, io vedrei una roba incredibile in questa specie di televisore in cui salta fuori quello esattamente che io sto simulando col mio dito. una roba è che è una successione di picchi e questa successione di picchi si chiama spettro di frequenza. Allora vuoi dire che questo affarino qua è in grado di prendere lo spettro di frequenza, ho riportato la mia radio qua, ma certo, ma questo spettro di frequenza sarà un po' diverso rispetto a questo, ma sicuramente è uguale. È in grado di prendere uno spettro di frequenza. Beh, allora, allora però c'è un problema che si pone. Ma tu mi hai fatto vedere il dito che va in continuo. È esatto, è lo spettro di frequenza che io vedo sull'oscilloscopio. Ma tu riesci in qualche modo a esaminare quello spettro di frequenza ad esempio attraverso il tuo computer? No? Perché no? Eh perché questa roba qui è una roba che continua a oscillare e quindi si chiama, dal punto di vista fisico, si chiama un segnale analogico. Quello che esce dal tuo cervello, se tu fai l'elettroencefalogramma, ve l'ha fatto vedere lui sempre. Quello è uno spettro analogico, è una roba continua e allora come faccio a memorizzare una roba continua all'interno di un calcolatore? E beh, da fisici abbiamo risolto il problema. Facendo cosa? E commutando questa specie di curva che continua a oscillare con dei picchi, non picchi, picchi e non picchi attraverso la successione di punti. E come voi sapete, non c'è bisogno di essere uno scienziato della matematica a dire che se io commuto una curva continua in successione di punti, i punti sono caratterizzati da due grandezze, la X e la Y. Quindi il mio computer è in grado di registrare punti, successione di punti e allora è in grado di memorizzare uno spettro di frequenza. Bravo, abbiamo risolto il problema. Beh, è qui? È qui, 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 diceva Giorgio, vi ha fatto una lezione dicendo prendiamo quattro capelli, tre capelli, mettiamoli al centro di questo circuito oscillante e qui il circuito oscillante capta lo spettro e questo spettro viene digitalizzato sul vostro computer e attraverso internet può andare da tutte le parti. Andrà in un centro di elaborazione dati. Dove? Eh beh, in Germania, ottimo, in Hamburgo. Ma voglio dire che una volta che voi avete capito il fatto che io memorizzo questo spettro in maniera digitale possono andare da tutte le parti. E cosa succederà là? Eh, succederà là che ci sarà un computer che riceve il mio spettro digitalizzato e lo confronterà con un mare di dati e compagnia bella parametri a non finire e sarà in grado di esaminare picco per picco andamento per andamento le frequenze che sono caratteristiche del corpo umano. Tutto ciò che vive dentro il corpo umano e al di fuori del corpo umano vibra, ovvero oscilla, ovvero ha la sua frequenza caratteristica. Vabbè, ma allora l'abbiamo scoperto. Ma da questo affarino qua è la miseria, ma questo affarino qua è così semplice come l'affarino che c'è dentro alla radio? Beh, io continuo a dire di sì, continuo a dire, continuo a cercare di semplificare per noi medici, semplificare i discorsi, ma dietro a questo affarino qua, dietro a questa bobina che è stata appiattita su questa scheda. C'è una roba pazzesca. La cosa è dovuta a sta roba pazzesca? Beh, la prima cosa che vi devo dire è questa. Il capello, quando io lo tiro fuori, in quel momento lì, attenzione, lo esami in quel momento lì e rappresenta la storia fino a quel momento lì. la storia. Quindi a questo punto diventa una memorizzazione di tutti i dati che riguardano voi. E cosa succede? Succede che il capello deve dare delle informazioni tridimensionali, certo, come il nostro corpo è tridimensionale. Il nostro corpo tridimensionale è rappresentato da tre grandezze, che sono la X e la Y e la Z. Non fai un certo punto.